Benvenuti nella contro rassegna stampa del notizio diffuso in Italia dai media euro atlantisti. Iniziamo dalle parole del vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo, Dmitry Medvedev, che ha detto che le persone vili che siano nel congresso americano, cioè quelli che dovrebbero essere i rappresentanti del popolo a stelle e strisce, li chiama villani, li chiama in un modo non proprio rispettoso un insulto, con i loro dollari insanguinati non riusciranno a fermare l'esercito russo, cioè a fermarci, fermare noi russi. Lo scrive su Telegram proprio in reazione a quello che è stata l'approvazione festeggiata anche dai media Haburu, parti italiani allineati, cioè guerra fondai, potremmo tradurlo così, questa parola ungherese del congresso americano, anche della Camera bassa, della Camera dei rappresentanti con il portavoce, il presidente repubblicano Mike Johnson. Vedremo una sua dichiarazione particolarmente controversa contro l'asse del demonio, come tradurremmo in maniera quasi comica, tragicomica direi, la parola demonio, diavolo. Cioè c'è la parte buona della storia e la parte cattiva della storia, la giusta decisione, come ha detto Sikorsky dalla parte polacca o come ha detto dalla parte cieca Petr Pavel, l'ho scritto in un messaggio anche su YouTube, proprio nella giornata di ieri. Si parla di decisione giusta, di parte giusta della storia, di parte sbagliata della storia in maniera biblica, cioè una realtà non geopolitica, bianca o nera, senza scale di grigi. Ci sono i bravi e ci sono i cattivi, i bravi sono gli americani, gli ucraini, i cattivi, i russi, gli iraniani, i cinesi e altri. 61 miliardi di dollari sbloccati in un maxi pacchetto da quasi 100. Solo per l'Ucraina di Zelensky, in realtà 90% è qualcosa, come ha detto anche Blinken, torna indietro alle tasche delle grandi imprese militari produttrici di armi a stelle e strisce. C'è un investimento a pagare, prima di tutti, col sangue il popolo ucraino. Dice Medveev, questi 60-61 miliardi allungheranno solo il conflitto e accresceranno il numero delle vittime, dei feriti, di chi avrà la vita distrutta, dilaniata. E, aggiungo io, accrescerà anche l'inflazione in tutto l'Occidente. Cioè stampare ancora più dollari, ancora più euro, ancora più aiuti e l'Ucraina porterà sicuramente a deficit e tutto il resto. Aumento anche del carrello della spesa, nonché dell'energia. Dice Medveev su Telegram, evidente che vinceremo, vinceremo noi russi, gli Stati Uniti sono l'impero del demonio. A proposito di termini e di toni che non si abbassano, stiamo ancora scendendo nel conflitto, non ne stiamo uscendo per citare l'analista professore ungresa No Gradi. Gli Stati Uniti crolleranno, crolleranno, profetizza Medveev dall'interno, imploderanno. Quindi anche per l'inflazione, il fatto di dare decine di miliardi di dollari a Israele, l'Ucraina, a Taiwan e anche per bloccare, almeno così ufficialmente, frenare quantomeno gli ingressi illegali dal Messia o il confine sud, per volere soprattutto dei trampiani, non certo dei democratici. Mike Johnson, per fare il paio con le parole di Medveev, Xi Jinping, Putin, anche l'Iran sono l'asse del demonio, del dimonio, come scrive e riporta Newsweek. Le parole di questa notte c'è stato il video degli abbracci delle bandierine ucraine al congresso slava-ucraini. Medveev, quindi, continua a riportare le sue parole, sono sicuramente le più accattivanti dal punto di vista mediatico, le più pesanti e anche controverse per chi è più sensibile alla prospettiva di Kiev. Il pagliaccio drogato, cioè il presidente ucraino, si riferisce a lui, ha ragione di tremare, di aver paura. L'Occidente lo vuole liquidare e eliminare. Perché? Reazioni medie, è sempre su Telegram la notizia che arriva dalla Polonia, è arrivata proprio a giornate ieri, le scorse ore. È stato arrestato un uomo accusato dei servizi di sicurezza di Varsavia di lavorare e vendere informazioni segrete ai servizi FSB russi, Sv era anche esteri, per aiutare quindi all'eliminazione del presidente di Kiev. Ha arrestato un certo Pavel Kappa, questo è il suo nome, come diffuso dalla polizia polacca. Ai russi avrebbe dato, secondo l'accusa, informazioni sulla difesa del presidente ucraino all'arrivo in un aeroporto della Polonia orientale, nella città di Zeshov, Iasonka, proprio per fare un attentato al presidente ucraino. Mediev ha scritto su Telegram, è possibile che questa è la prima prova, il primo sintomo che l'Occidente voglia liquidare definitivamente il presidente ucraino. Vedete il suo messaggio con la foto, il mirino di Zelensky, lascio a voi ogni commento. Intanto, questo si dice poi, anzi non si è detto proprio, censurato all'ombra dell'approvazione del congresso americano di 60 miliardi all'Ucraina. È stata colpita per la prima volta una base dell'aviazione delle AFU, di Sirsky, quindi delle forze armate ucraine, da un attacco missilistico russo. Ci sono delle immagini da droni russi, ovviamente girate da droni russi, che ritraggono, diffuso al Ministero della Difesa di Shoigu, nella città di Aviatorsk, nella regione oblast di Dnipropetrovsk, colpiti diversi caccia ucraini di arrivazione sovietica MiG-29 da missili russi Skander-M, presi anche e distrutti dei depositi di munizioni. In un secondo video, diffuso sempre dalle istituzioni russe, vengono ritratti dei sistemi di difesa aerea di rivelazione sovietica in mano, Ucraina S-300, immobili che non hanno reagito all'attacco missilistico, non hanno neanche cercato questi missili e munizioni di questo sistema S-300 di colpire i missili russi in arrivo proprio sulla struttura militare strategica, sintomo di una difesa aerea ucraina sempre più in sofferenza, come confermato anche dalle parole di Zelensky e dell'aviazione ucraina. Al fronte siamo a più di 100 km di distanza dal fronte della prima linea e quindi i russi colpiscono anche con missili, nonché con droni, anche in profondità sempre di più. Da qui la sollecitazione di tutti, era solo questione di tempo, di arrivare all'approvazione del sblocco dei 60 miliardi da Washington, oltre gli aiuti, per esempio, europei miliardi di euro. Tra l'altro, gran parte, come ho letto, sentito anche dal professor Nogradier, qui in Ungheria, dei 60 miliardi all'Ucraina, e sono solo, dalla parte americana, una copertura degli aiuti militari già dati a debito in precedenza. Questo non viene raccontato molto in Italia dai media principali. Esplosioni, quindi attacchi russi anche nella città di Odessa, portuale, sul Mar Nero. Ci sono video che stanno a testimoniare il fatto che i russi riescano sempre di più a colpire strutture strategiche, proprio nella città, forse tra i prossimi obiettivi militari del Cremlino, in quella prospettiva della conquista, la ricreazione della Navarassia. I soldati ucraini sempre di più si stanno consegnando al nemico. Ovviamente le notizie che porto sono un negativo, sono da completare, sono appunto un'informazione complementare rispetto a quella filoucraina data del servizio pubblico italiano RAI, per esempio. Qui non significa che riportare questo non sia una narrazione giusta, completa. Volontariamente non lo è, perché questa è un'informazione complementare, lo ripeto sempre, ma non basta. Veramente mai, leggo dai commenti purtroppo, dopo anni e anni di questo servizio. 27 soldati ucraini si sono, come vengono ritratti al video, consegnati alle forze armate russe, quindi come prigionieri guerra, hanno disertato, lo riferisce il ministero di Castero col portavolce Igor Konashenkov. Ci sono anche dei video che ritraggono la scena delle armi buttate a terra dalla parte dei soldati ucraini, che stanno a dimostrare, tutte queste immagini, queste notizie, la sofferenza delle forze armate ucraini sui fronti di terra, non la guerra asimmetrica, gli ucraini che colpiscono decine di droni kamikaze, le raffinerie russe, eccetera, eccetera. E' stato condannato, anche i condannati, anzi, per omicidio criminali, condannati in galera nel carcere ucraino e verranno fatti arruolare al fronte, mobilitati. Proposta di Denis Maliuszka, ministro della giustizia ucraina. Ricorderete tutti quando gli ucraini ridevano la propaganda occidentale dei russi che arruolavano, davano un sconto di pena ai criminali e agli omicidi, mandandoli al fronte a combattere. Qualche annetto fa tutti ridevano, la Russia non ha uno stato di diritto, adesso lo fa l'Ucraina, censura dalla parte occidentale, silenzio o si asseconda la scelta. Tutto questo, secondo il capo del di Castero di Chieva, crescerebbe il numero dei soldati nelle AFU, quindi risolverebbe il problema e la mancanza di rinnovamento, di rotazione da parte delle forze armate. Al fronte soprattutto, saprete, sicuramente dice il ministro, queste persone sapranno come uccidere, utilizzare le armi, saranno più efficaci rispetto ai cittadini onesti. Che bello! Si verrà creata sicuramente una formazione militare a parte, proprio per questi condannati ai vari fronti di guerra, combatteranno in prima linea sicuramente. E questo allenterà la pressione sulle carceri ucraine già sovraffollate, assicura, chiude il ministro della giustizia. Zelensky ha proibito il gioco d'azzardo, soprattutto in rete, nell'esercito ai soldati ucraini, perché rovinerebbero il morale ancora di più, morale militare a terra, e rappresenterebbe un rischio di sicurezza per l'Ucraina. Tempo addietro, un soldato ucraino aveva promosso, proposto una petizione da far firmare in giro in Ucraina, proprio perché ha visto che la denuncia, il fatto che molti commilitoni passavano ore e ore sulle piattaforme di gioco d'azzardo in rete. Zelensky, come scrive Bloomberg in America, proibirà sicuramente le pubblicità del gioco d'azzardo sulle piattaforme Apple e Google, e anche delle applicazioni proprio su questo tema, su questa dipendenza. La Germania, nel mentre, per confermare l'analisi, per esempio, Ishtir Gabor in Ungheria, o di Shom Kutibaly in Tanalistim, il fatto che 60 miliardi accresceranno sulla sofferenza, la morte allungheranno la guerra, e non faranno perdere la Russia e vincere l'Ucraina militarmente in vari fronti di terra, sicuramente. La Germania vede di buon occhio come un ottimo affare l'investimento, i soldi dati all'Ucraina, come dice il ministro dell'economia, vice cancelliere dei Verdi, Robert Habe, che dovrebbe essere un partito, i Verdi, di Grunen pacifista, storicamente, lasciamo perdere. Ricostruzione da Kiev e dintorni. Ci saranno delle trattative per delle capacità tedesche di investimento importanti per far crescere soprattutto l'economia di Berlino, soprattutto nei settori della difesa, quindi armi, munizioni, ma anche dell'energia, oltre che dell'edilizia. Per quanto riguarda poi l'Ucraina, l'Ucraina sarà sempre di più, come scrive politico.eu, giornale europeista, un laboratorio per testare le nuove tecnologie militari, per esempio della Rheinmetar e Viva, nel mentre versato sangue ucraino oltre che russo. In Germania, per restare in Germania, hanno trovato 161 bambini ucraini che sarebbero stati, secondo la propaganda occidentale ucraina, mesi fa, come denunciato mesi fa, tutti i mezzi stampa italiani allineati piangevano, rapiti, deportati dai russi. Questa è l'accusa, ovviamente sbugiardata da questa notizia. Già da tempo questi minori vivevano con i genitori a Berlino e dintorni. A riferirlo, l'ufficio contro il crimine, criminale federale tedesco BKA. Poi, per quanto riguarda la polizia ucraina, mercoledì su Facebook, che ha commentato e ha, come si dice, confermato con i colleghi tedeschi che con successo hanno identificato 161 minori bambini ucraini in Germania, che secondo anche la Corte Penale Internazionale ICC, 17 marzo scorso, la condanna Putin per, questa era l'accusa, la condanna, il mandato d'arresto internazionale, insieme anche alla responsabile del Cremlino per la tutela dei minori, Vova Belova, per deportazione, magari, dalla parte russa, il tentativo non per questi 161, ma per altri bambini ucraini al fronte di liberarli di quella situazione drammatica e pericolosa di conflitto. L'Agenzia per l'Energia Atomica ad Uso Civile Internazionale ha detto, ha confermato, non ci sono armi pesanti russi installate nei pressi o dentro la centrale atomica di Saporizia Saporosha, la più grande centrale ad uso civile europea, a riferirlo il capo dell'Agenzia, Rafael Grossi, lunedì in una conferenza stampa. Kiev ha respinto ogni accusa di aver mai attaccato contro ogni kamikaze la struttura strategica energetica, una questione molto pericolosa, ovviamente, nonostante che la centrale non produca energia elettrica. Attualmente potremmo dire che è spenta in maniera così profana. Andriy Yusof, dalla parte ucraina, portavoce dei servizi militari di Kiev, ha detto di non aver confermato il fatto che l'Ucraina non ha mai attaccato queste strutture in mano russa dei ceceni dell'Akmat, in questo caso di Saporizia. Andriy Kovalenko, il capo del centro contro la disinformazione ucraina, ha detto che l'Agenzia per l'energia atomica internazionale di Grossi è sotto pressione di Mosca, è vittima della manipolazione della propaganda del Cremlino per quanto riguarda queste accuse. E queste nuove notizie del fatto che l'Ucraina, che la Russia non avrebbe armi pesanti installate nella centrale sotto il controllo ormai di Mosca da anni. L'Ungheria non farebbe parte dell'Europa dell'Unione Europea. Infatti, per chiudere, questo è l'Occidente avanzato e lo stato di diritto europeo del governo Sanchez, amico della famiglia Soros Sanchez che vedete a sinistra in questa foto. Il ministro delle finanze spagnola di Madrid sul caso Talgo l'acquisto dalla parte di una ditta di treni ungherese pubblica della ditta privata produttrice di treni Talgo spagnola. E quindi il no dalla parte di Madrid al movimento dei capitali da est verso ovest in Unione Europea solo a parti invertite. Che bello lo spazio economico europeo. Schengen e tutto il resto. Qui non possono andare a finire le mani ungheresi questo tipo di aziende strategiche per Madrid ma imprenditori o meglio le offerte di acquisto possono arrivare solo da imprenditori ditte europee dunque non ungheresi perché l'Ungheria non fa parte dell'Europa dell'Unione Europea. È arrivato il sì all'acquisto ungherese dalla parte della ditta che è azionista in maggioranza della Talgo quindi sì all'offerta ungherese della ditta Gans Vogue al centro del no del governo la ministra Maria Jesus Montero questi sono sicuramente i valori europei libero mercato per parlare a proposito di liberalismo classico dimenticato dai neoliberali e da questi della nuova sinistra fucsia arcobaleno chiamatela come vi pare insieme alla destra cosiddetta bluet neoliberale fanno veramente il paio grazie per aver visto questo video al prossimo tra Italia e Mario Rorsag grazie a tutti grazie a tutti